Dico subito che finalmente facciamo questa dedicazione al Professor Miglio di questo spazio della città e devo dire che sono molto soddisfatto che dopo una lunga ricerca questa ipotesi siamo riusciti ad attuarla e questa ipotesi è un'ipotesi bella, questo posto è assolutamente adeguato alla personalità, alla storia, al significato del Professor Miglio per la nostra città, poi ci sarà modo di approfondire il tema. Credo che possiamo andare a scoprire la lapida. Si gira verso di noi. Grande tu sei il Signore Dio nostro, in molti modi ti sei rivelato agli uomini e nella scrittura divinamente ispirata ci hai trasmesso il dono inestimabile della tua parola. Ascolta la nostra preghiera e benedici questa tarda nel ricordo del Professor Miglio. Fa che tutti noi, da onesti indagatori del vero, illuminati dalla sapienza del tuo verbo, orientiamo i nostri sforzi alla costruzione di un mondo più umano. Per Cristo nostro Signore. Grazie, signor Kelly. Voglio dapprima dare lettura del messaggio che mi ha scritto il Presidente Formigoni, il quale è introdotto su di me più volte, insieme anche al Presidente Sormiglio, perché si trovasse una collocazione adeguata. Ti dice, ti ringrazio sentitamente per il tuo gentile invito alla cerimonia di intitolazione, sebbene sia impossibilitato a presenziare, desidero esprimere le mie congratulazioni all'amministrazione comunale Comasca per aver scelto a dedicare questa piazza a uno dei più importanti giuristi e politologi lombardi. Da sempre sostenitore della trasformazione dello Stato italiano in senso federale, il suo pensiero e il suo impegno sono stati senza dubbio una leva fondamentale per aprire un serio dibattito politico su questa riforma costituzionale che oggi è largamente condivisa. Con questi sentimenti porgo a te, alla famiglia Miglio e a tutti i presenti all'evento i miei più cordiali saluti. Roberto Formigori Io voglio innanzitutto ringraziare tutte le autorità presenti, Sua Eccellenza il Prefetto, gli onorevoli parlamentari, gli assessori, i sindaci, non solo della nostra città, vedo per tutti i sindaci di Cantù, Tiziana Sala, segno di un grande affetto innanzitutto per un uomo che ha speso tutta la sua vita per la ragione dello Stato e soprattutto che ha speso tutta la sua vita sempre avendo una grandissima dote che era quella di vedere con chiarezza i fatti della storia che si verificavano intanto che lui li esaminava e quindi anche tutta la sua critica, valutazione e giudizio sulle problematiche dello Stato così come era organizzato, su tutti i suoi difetti, su tutta la necessità che esso si riformasse, ma dentro una capacità sempre di prospettiva sul futuro, cioè non immaginando un intervento straordinario per fare qualcosa affinché l'anno dopo funzioni meglio, ma dentro la vita dello Stato, 10 anni, 20 anni, 50 anni, 100 anni avanti, allora questa sua capacità di essere un po' strabico, di vedere il dettaglio dell'oggi nella prospettiva del domani l'ha reso uno statista importante, l'ha reso uno studio importante. Chiederei in questa prima fase al Presidente della Provincia Leonardo Carione di fare un suo intervento. Grazie, grazie Sindaco, grazie a un'inituzione comunale che ha avuto questa grande, questa bella iniziativa di intitolare la piazza al Professor Gianfranco Milio. Un saluto a tutte le autorità presenti e fanno di questa manifestazione oggi un atto momento di grande importanza, di grande livello così, di grande livello istituzionale. Io, al di là di condividere ciò che il Sindaco Stefano Bruni prima ha citato, vorrei ricordare in questo momento e ringraziare il Professor Milio e la famiglia, perché io ho avuto la fortuna di rimanere per diversi anni un po' la fortuna di conoscerlo direttamente, di avere la possibilità di sentire i suoi pensieri e posso dirlo oggi se ho imparato qualcosa a livello amministrativo, l'ho imparato da lui. ho cercato. Grazie Presidente, anche per questo tratto di esperienza diretta umana, passerei la parola al Professor Ornaghi, magnifico Rettore dell'Università Cattolica. Sindaco, grazie innanzitutto l'opportunità di poter dire qualche parola, sarà un po' più lungo di quel che il Sindaco ho chiesto, ma di poco. Un cordiale saluto a tutti, l'autorità e vado particolare al Sindaco di Como, al suo prefetto, al suo Presidente della provincia, al Rettore del Seminario, aggiungo anche un Assessore, ma solo per ragioni di più universitari, alla famiglia Milio e vado particolare a tutti voi. Penso davvero che la città di Como oggi renda un grande onore a Milio, lo renda a un suo figlio che a sua volta molto ha onorato e molto ha onorato perché è molto l'amata, credo che l'amore di Milio per il suo territorio sia stato uno degli elementi fondamentali della sua teoria politica, amore perché c'è potenza di ragioni che era... Grazie, ovviamente la prima cosa cari amici che siete tutti qui convenuti perché è chiaro che vedo tante facce che mi sono care, tante persone diciamo che mi fa un particolare piacere vedere qui oggi e che se sono venute non è ovviamente per nessun tipo di calcolo, ma semplicemente per l'affetto e per la stima che avevano verso mio padre. Io vorrei ringraziare tutti voi, vorrei ringraziare a nome della mia famiglia, a nome di mia mamma che purtroppo per ragioni di salute ci avrebbe tenuto tanto ma oggi non può essere qui con noi. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale che ovviamente in periodo piuttosto tormentato e tribolato ha trovato lo stesso il tempo di dedicare attenzione a questa procedura che abbiamo concluso oggi. Forse dobbiamo riconoscere che non era facile trovare un posto buono, in como che avesse diciamo le caratteristiche di non diminuire la persona e di non sconvolgere la vita urbana. Ci abbiamo messo nove anni, gran parte di questo merito va al dottor Lorenzo Marazzi che ha individuato questa soluzione, grazie davvero perché con l'esperienza che ha avuto nella commissione toponomastica municipale negli anni passati probabilmente non c'era persona migliore per trovare questa piccola soluzione al rebus che avevamo di fronte. Posso solo dire che questo posto mi piace particolarmente, credo che mio padre sarebbe stato contento per diversi motivi di avere dedicata questa piazzetta, questo largo. In primo luogo perché è una bella piazzetta, sicuramente bella, c'è il liceo classico dove ha studiato che si affaccia proprio su questa, la torre entrata dalla città murata che sta proprio sopra la piazza, quindi direi che è un bel posto, è un posto centrale, quindi è un posto dove la gente passa, dove la gente può anche chiedersi, come diceva l'amico Lorenzo Ornaghi alzando un po' la testa e guardando la targa, ma chi era già Franco Miglio, magari tra 20 anni, tra 30 anni e quindi è anche una piazza che ha una valenza particolare per me, contornata da vie che sono dedicate a studiosi lombardi. Abbiamo alle spalle Viale Carlo Cattaneo, abbiamo di fronte gli Aquarini, Cesare Cantù, Paolo Giovio, direi che vicini migliori con cui trovarsi in consonanza di questi era difficile trovarli. Quindi un mio grazie sentito a tutti voi che siete qua e chi ha partecipato a rendere questa soluzione oggi operativa. Grazie.